salve ragazzi un'attivazione molto utile per ritrovare la vostra auto dopo averla parcheggiata in un posto buio dove ci sono anche tantissime altre macchine è quella di far lampeggiare la luce del terzo stop insieme alle quattro frecce questo ovviamente si può avere sia in apertura che in chiusura ma nel nostro caso serve esclusivamente in apertura infatti vedete che il terzo stop lampeggia insieme alle frecce così che la macchina può essere più visibile nelle zone buie terzo stop che può essere utilizzato anche insieme al tasto delle quattro frecce quando noi parcheggiamo in seconda fila avendo abilitato questa funzione la luce del terzo dello stop supplementare lampeggerà insieme alle quattro frecce in modo tale insomma da essere più visibili sia di giorno che di notte la stessa funzione la possiamo avere in caso di frenata d'emergenza infatti quando effettuiamo una frenata d'emergenza ad esempio sull'autostrada si attiveranno le quattro frecce durante la frenata d'emergenza e a quel punto lampeggerà anche in questo caso sempre la luce del terzo stop quindi le macchine che seguono ci potranno vedere con più facilità se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale un saluto a tutti